E' il terzo degli appuntamenti importanti per la promozione del territorio. Sappiamo bene che questo è un territorio molto vocato alla produzione del vino e quindi anche tutto il paese vive questa realtà e quindi è comunque sempre un piacere festeggiare anche quello che è un elemento quasi naturale di questo territorio. Terricciola è una storia importantissima, soprattutto noi dobbiamo tenere presente che qui siamo nel nord della terra degli Etruschi quindi gli Etruschi probabilmente è stata una delle prime popolazioni a coltivare la vita in maniera massiva quindi c'è una tradizione che possiamo dire millenaria. Quindi tutto il movimento sia del vino che del turismo in generale sta cercando di dare sempre più visibilità a questo territorio Terricciola sicuramente è un fulcro per questo territorio, soprattutto per quanto riguarda il vino. Dunque per quella giornata molte cantine saranno aperte ai visitatori quindi saranno organizzati degli autobus, dei bus navetta che porteranno le persone, quindi gli ospiti a far conoscere le aziende e anche ovviamente i vini. Il nostro vino di punta, vabbè, noi coltiviamo soprattutto per l'80% delle nostre uve rosse sangiovese quindi ovviamente il cuore dell'azienda batte nella direzione del sangiovese dovendo citare proviamo a fare un sangiovese diciamo che si distingua un pochettino per qualità e il nome opera in rosso. Sì, noi ci troviamo ovviamente nel comune di Terricciola nella località di Casanova la nostra azienda è nella valle di Casanova l'azienda si chiama Podere e la Chiesa.